Ciao da Avsim, parliamo un po' di contropiede perché secondo me se ne parla in maniera un po' abusiva, inesatta, quindi cerchiamo di capire che cos'è il contropiede e come si stanno muovendo le squadre europee più contropiediste in questa stagione 21-22, dati aggiornati a questo inizio di marzo 2022 per la precisione al 3 marzo. Sono andato a fare anche una serie di grafiche per mostrarvi bene che cosa intendiamo per contropiede e che cosa appunto stanno facendo le squadre che possiamo considerare più contropiediste e il tutto anche per associare tutto questo alla Juventus e quindi capire se la Juventus di Allegri in questo momento potrebbe giocare meglio anche sul piano del contropiede oppure va già bene così. Perché sul piano del contropiede? Perché molti dei tifosi e non solo che difendono l'operato di Allegri e che rivendicano la bontà della proposta di calcio della Juventus si legano proprio al fatto, a volte un po' un luogo comune, che la Juve più di difesa e contropiede non può fare. Al di là di essere d'accordo o meno, facciamo conto che sia effettivamente così che la Juventus più di difesa e contropiede non può fare, dobbiamo chiederci se la Juventus sta facendo difesa e contropiede e come sta facendo il contropiede. Ecco perché questo studio, ecco perché questa analisi e questi dati. Il contropiede però che cos'è? Partiamo dalla definizione di contropiede. Non ho trovato una definizione calcistica specifica, ma la definizione di Treccani è un'azione velocissima e improvvisa di contrattacco condotta mentre l'avversario si trova proteso all'attacco. È una definizione che si applica al calcio, ma non solo, quanto mi pare di capire anche alla palla a mano, ma comunque è una definizione che riusciamo ad appiccicare al contropiede che noi intendiamo nel calcio. Ed è molto importante la seconda parte, azione condotta mentre l'avversario si trova proteso all'attacco. Questo che cosa significa? Significa che gli elementi strutturali di un contropiede sono innanzitutto la riconquista del pallone. La riconquista del pallone, quindi il contropiede non può nascere da una rimessa dal fondo o da una rimessa laterale difensiva, perché in quel caso non stai subendo un attacco ma sei in possesso del pallone e al massimo sei schiacciato dietro e sei semplicemente con tanti giocatori avversari nella tua metà campo, ma è diverso. Qui si tratta invece di riconquistare il pallone, quindi una squadra passiva che è statica e non riaggredisce, non cerca di conquistare il pallone, come la Juventus a Firenze contro la Fiorentina in semifinale d'andata di Coppa Italia, non è una squadra contropiedista. Non fai un contropiede se non riconquisti innanzitutto il pallone, perché devi fare questa azione con la squadra avversaria protesa all'attacco. Dopo la riconquista del pallone deve esserci una verticalizzazione immediata, deve esserci una verticalizzazione immediata, e a seguito di questa verticalizzazione si verifica l'attacco dello spazio senza palla da parte dei giocatori che non sono in possesso. Questo attacco senza palla sarà tanto più bello, entusiasmante, efficace, quanto più sarà stato studiato in allenamento e i movimenti saranno codificati e collaudati. E si conclude con una rifinitura, cioè non basta un passaggio per fare un contropiede, ne serve qualcuno in più, approfittando di questi movimenti senza palla, di questi inserimenti di questo attacco della profondità, premiando i movimenti dei compagni fino ad arrivare al passaggio finale che vale assist, perché vale goal. Se fai goal in contropiede, se non fai goal, fai un key pass, quindi un passaggio che porta al tiro, e comunque fai un tiro e hai fatto una bella azione. Perché ho detto entusiasmante oltre che efficace? Perché non è il tipo di calcio che prediligo, quello difesa e contropiede, però riconosco che squadre contropiediste brave nel fare i contropiedi possono anche fare calcio attrattivo. Per cui, ritornando a Fiorentina-Juventus 0-1, se la Juventus avesse battuto la Fiorentina al 91esimo con autogol di Venuti, dopo aver fatto nel corso della partita 4, 5, 6 contropiedi fatti bene, anche se inefficaci, che avessero comunque portato al tiro e quindi alla creazione di occasioni da goal, io avrei esultato e sarei stato anche ben contento, perché avrei visto la mia squadra proporre qualcosa. Il problema è che la Juventus contro la Fiorentina ha proposto praticamente 0 e non ha fatto contropiede, ha fatto puramente e semplicemente difesa statica, come è capitato anche in altre partite. Quindi, se questo è il contropiede, andiamo a vedere quali dati possiamo utilizzare per calcolare il contropiede nelle squadre europee, nelle principali squadre europee, e vi dico come le ho individuate. Dicevo, fonte dati di Analyst, che fornisce, tra gli altri dati, anche quello dell'attacco diretto. Che cos'è l'attacco diretto? Secondo di Analyst è sostanzialmente il contropiede, perché viene definito come un possesso che inizia nella propria metà campo, quindi in realtà è anche di più del contropiede, cioè qui consideriamo i contropiedi e anche quello che non sono contropiedi, come dicevo prima, quando batti una rimessa laterale, parti dalla tua area di rigore, quindi un possesso non a seguito di riconquista. Comunque, un'azione che parte dalla metà campo, si spinge in avanti, in verticale, nel senso verticale del campo, di almeno il 50% del campo, perché sennò contropiede non può essere, e si conclude, e conclude con un tiro o un tocco nell'area avversaria. Quindi perché sia valido l'attacco diretto calcolato da D'Analyst, è necessario che l'esito non sia una palla persa, non sia un errore, non sia un passaggio intercettato, ma almeno un tocco nell'area avversaria oppure un tiro. E quindi, anche perché insomma il contropiede che finisce fuori dall'area avversaria non è un contropiede o che finisce senza un tiro, non è considerabile come contropiede. Ci siamo anche per la definizione di prima. E quindi questi attacchi diretti definiscono quelli che sono le squadre in effetti più verticali. E allora io sono semplicemente andato a prendere per i top 5 campionati europei, quindi Serie A, Bundesliga, Ligue 1, La Liga e Premier League, le cinque squadre, anzi le sei squadre, le sei squadre in classifica che hanno il numero più alto per quanto riguarda appunto gli attacchi diretti. E poi di queste stesse squadre sono andato a prendere anche altri tre dati, e cioè la velocità di risalita del campo, la velocità media di risalita del campo, gli expected goals su open play, quindi il potenziale da goal su azione manovrata, e i goal su open play, perché il contropiede è open play, è azione manovrata. Non tutte le azioni manovrate sono contropiede, ma nell'open play ritroviamo anche i dati sul contropiede. E quindi vi mostro la tabella. Le squadre sono per la Premier League, Leeds, Liverpool, Manchester United, Leicester, Watford e Chelsea. Per la Liga, Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Barcellona, Athletic Club e Villareal. Per la Bundesliga, Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, Bochum, Eintracht, Francoforte, Lipsia e Union Berlino. Per la Liga, Paris Saint-Germain, Rennes, Bordeaux, Brest, Lille e Saint-Etienne. Per la Serie A, Empoli, Inter, Milan e Napoli, Sassuolo e Roma. Poi al settimo posto ci sarebbe l'Atalanta. Ho aggiunto la Juventus, perché la Juventus a livello di attacchi diretti non è neanche tra le prime sei, né tra le prime sette della Serie A. Da questi dati, che adesso vi sarà difficile magari andare a leggere con calma, ma gli abbonati al mio canale, bastano 99 centesimi al mese su questo canale per sfruttare questo vantaggio, hanno le chat riservate sul mio server Discord. Quindi abbonatevi al canale, entrate sul mio server Discord e troverete le chat riservate agli abbonati, tra cui quella sulla tattica nella quale ho pubblicato il file PDF completo di questo studio, per poterlo consultare con calma. Ma sinteticamente vediamo qual è il posizionamento della Juventus rispetto alle altre squadre e poi andiamo a vedere specificamente in un grafico a dispersione come si colloca la Juventus per una serie di abbinamenti, nello specifico un raffronto tra attacchi diretti e velocità di risalita del campo, attacchi diretti e XG, attacchi diretti e goal, e XG e goal anche per dare un po' di contesto sul potenziale offensivo. Quello che risulta è, come vedete, che la Juventus ha una velocità d'attacco di 1,4 m al secondo, un numero di attacchi diretti per 90 minuti di 1,67, XG open play per 90 minuti 1,02, goal open play per 90 minuti 1,19. Per 90 minuti perché nel calcio europeo, in questo momento, a questo mese di marzo, a questo inizio marzo, il numero di partite disputate è diverso. Per esempio, in Bundes, ieri erano tutti a 24 partite, in Premier addirittura qualcuno a 25, qualcuno a 26, qualcuno a 27, quindi ho fatto un lavoro abbastanza lungo di andare anche a dividere i dati di analyst che sono assoluti per il numero di partite disputate, in modo tale da avere un raffronto su 90 minuti. Quindi questo è il livello della Juventus, e quindi abbiamo che le squadre migliori, quali sono le squadre migliori per questi dati? Vi sono andato a prendere le tre migliori per vedere quanto sono distanti i dati della Juventus. Le tre squadre più veloci nella risalita del campo in Europa sono, o almeno di queste che ho individuato, sono Brest 1,91 metri al secondo, Athletic Club 1,83, Empoli 1,78, la Juve 1,40. Le tre squadre migliori per attacchi diretti in media ogni 90 minuti sono Bayer Leverkusen 3,33, Real Madrid 2,77, Bayer Monaco 2,71, la Juve 1,67. Per Open Play XG, Bayer Monaco 2,53, Liverpool 1,81, Paris Saint Germain 1,63, la Juve 1,02. Open Play Goal, Bayer Monaco 2,33, Bayer Leverkusen 2, Liverpool 1,92, Juve 1,19. Vedete la distanza da squadre rispetto alle quali la Juve dovrebbe essere allo stesso livello, se pensiamo per esempio alla Superlega, o all'ambizione di andare in Champions League. Invece c'è un distacco enorme rispetto a queste prime della classe in questi dati. E parliamo di squadre che sanno anche fare il contropiede. Ora, il Bayer Monaco non è una squadra contropiedista, ma è capace di fare attacchi diretti, che come dicevo è anche un insieme più ampio rispetto allo specifico contropiede. Mentre, per quanto riguarda specificamente gli attacchi diretti, e voi vado ad elencare le squadre che hanno un dato migliore, quindi che fanno più attacchi diretti in media ogni 90 minuti, rispetto alla Juventus, tenendo conto delle sole squadre tra virgolette deboli. Quindi escludendo quelle che sono più forti, uno potrebbe dire, vabbè ma sono più forti, hanno giocatori più forti. Bene, la Juve abbiamo detto che fa 1,67 attacchi diretti ogni 90 minuti, ed è quarta in questo momento in Serie A con 50 punti. Squadre che fanno più attacchi diretti della Juventus. Leeds, 2,50, sedicesima con 23 punti in Premier League. Leicester, 2,04, dodicesima con 30 punti in Premier League. Watford, 1,88, diciannovesima con 19 punti in Premier League. Betis, 2, con terzo posto e 46 punti nella Liga. Real Sociedad, 1,88, sesta con 44 punti. Bochum, in Bundesliga, 2, undicesima con 29 punti. Eintracht, 1,88, decima con 31 punti. In Ligan, Rennes, 1,88, quarta con 43 punti. Bordeaux, 1,85, ventesima con 22 punti. Brest, 1,85, dodicesima con 32 punti. In Serie A, per esempio, Lempoli, 1,96, tredicesimo con 31 punti. Sassuolo, 1,74, decimo con 36 punti. Andiamo a questo punto a vedere la distribuzione della Juventus, cioè come la Juventus si atteggia per quanto riguarda questi dati e poi facciamo considerazioni conclusive. E quindi abbiamo che, per quanto riguarda il rapporto tra velocità e attacchi diretti, nella prima grafica che vi mostro, abbiamo la distribuzione di tutte queste squadre, che sono 31, 31 squadre perché sono 6 per 5, più c'è l'aggiunta della Juventus. La distribuzione delle 31 squadre, come vedete, ci sono poche squadre che spiccano e quindi le abbiamo anche un po' individuate. Tra queste sicuramente ci sono Bayer Leverkusen, Real Madrid, Bayer Monaco per quanto riguarda il numero di attacchi diretti che trovate appunto in verticale, mentre in orizzontale c'è il numero, c'è la velocità di risalita del campo. E la Juventus, come vedete, nella parte di destra si colloca praticamente all'interno della massa indistinta di un po' tutte le squadre. Quindi non si distingue la Juventus né per velocità né per attacchi diretti. La stessa cosa la vediamo su attacchi diretti per expected goals. La Juventus è ritratta in basso verso l'origine delle assi nel mucchio appunto indistinto, mentre le squadre che si distinguono sono ben protese o verso destra o verso l'alto o entrambe le cose e sono sempre le squadre che abbiamo individuato prima. Ancora il rapporto attacchi-goal. Qui magari vediamo la Juventus leggermente più in alto ma non tanto spostata verso destra e comunque anche qui ammassata insieme ad un mucchio di altre squadre senza distinguersi particolarmente. Infine, nel rapporto XG per goal che ci dà l'idea sostanzialmente dell'efficacia del potenziale da goal e qui chiaramente abbiamo una chiarissima correlazione tra i due dati, anche qui la Juventus è in un limbo di mediocrità potremmo dire o comunque ad un livello piuttosto medio. Bene, questi erano i dati e le grafiche e le considerazioni allora perché se sono squadre molto più forti, attrezzate, ricche, con tanti giocatori di qualità, ad avere dati migliori della Juventus tra le squadre che fanno contropiede, tra le squadre che possiamo considerare comunque contropiediste, allora nulla a questio perché basterebbe dire ma queste squadre sono più forti, più attrezzate, hanno speso più soldi, hanno giocatori più costosi. Invece abbiamo anche squadre che sono in basso in classifica e che non sono minimamente paragonabili al livello e all'ambizione della Juventus che pure riescono a fare contropiedi migliori. Migliori cosa significa? Significa riuscire a concretizzare nella definizione che abbiamo detto all'inizio questi attacchi diretti. L'attacco diretto secondo The Analyst è un'azione sempre efficace perché si conclude con un tiro o un tocco nell'area avversaria. Non necessariamente fai gol, è chiaro, ed è lì che magari interviene la debolezza tecnica di queste squadre. Ma fino al momento della conclusione, della rifinitura e della finalizzazione sono squadre che sono state in grado tramite gli allenamenti, quindi tramite gli allenatori, tramite l'organizzazione, tramite il lavoro, di diventare appunto squadre organizzate ed efficaci in una determinata proposta di calcio che è prevalentemente contropiedista o significativamente contropiedista. E quindi è ingiustificabile a questo punto che la Juventus, che vorrebbe secondo una certa retorica essere una squadra di difesa e contropiede, abbia questi dati. E evidentemente è una squadra che non facendo azione manovrata di dominio nel possesso nella metà campo avversaria, non fa però neanche il contropiede. Non è una squadra neanche contropiedista. Come questi dati, ripeto, sostanzialmente dimostrano, perché la Juve non spicca tra le squadre che fanno contropiede, anzi, è confinata nell'oblio in questo senso. E allora, evidentemente, si poteva lavorare di più e si dovrebbe lavorare di più per rendere la Juventus una squadra tra le squadre contropiediste più efficace, ma a prescindere dal contesto, una squadra che sappia fare meglio il contropiede nel senso proprio di produrre questi attacchi diretti. E se riesci a produrre un maggior numero di attacchi diretti, riesci probabilmente anche a fare un po' più di gol in contropiede e di conseguenza un po' più di gol. E quindi non si può dire, ma veramente non si può dire, che la Juventus, vista contro la Fiorentina e anche in altre partite statica, rinunciataria, passiva, sia una squadra contropiedista e che con questi giocatori solo questo puoi fare. Perché a parte che molti di questi giocatori della Juventus hanno giocato in sistemi di calcio completamente diversi in altre squadre, prima o lo fanno tuttora in nazionale, e quindi sicuramente sanno fare anche un altro tipo di calcio. Secondariamente non sono giocatori scarsi, perché altrimenti mi dovete dire quali sono i giocatori del Leeds, del Leicester, del Watford, del Bochum, del Leintracht, del Rennes, del Brest, del Bordeaux, che sono tutte squadre in grado di fare, ripeto, un maggior numero di attacchi diretti, quindi di avere un gioco di rilancio, di reazione più propositivo e più efficace della Juventus. e quindi poi il problema non è appunto relativo ai giocatori, ma semplicemente ad un'organizzazione. E se è vero, come dicevo, che solo difesa e contropiede si può fare, che lo si faccia almeno bene. E invece non è bene che lo si sta facendo, anzi, piuttosto male, ripeto, in maniera inefficace. Quindi, il senso è questo. È stato uno studio lungo, è stato uno studio lungo, mi ha richiesto delle ore raccogliere tutti questi dati, realizzare le grafiche, essere sicuro di quello che vi stavo dicendo, confrontare, eccetera. Per me è stato un piacere, non certamente devo scaricare su di voi il tempo che ci ho perso, che ci ho impiegato, anzi, lo dico solo per farvi notare quanto sia difficile produrre certi video, certi contenuti, ma soprattutto quanto non ci sia da parte mia nessun pregiudizio nel punto di partenza, perché nell'andare a raccogliere tanti dati, ad elaborare tanti dati, non puoi partire dal presupposto che alla fine ti uscirà un risultato. Prima di raccogliere e di iniziare, non lo sai. E quindi, ho iniziato questo studio a raccogliere dati e poi mi sono reso conto che la Juve era una situazione anche peggiore di quella che mi aspettassi rispetto alle mie aspettative. Credevo invece che la Juve potesse emergere comunque tra queste squadre contropiediste come una squadra tutto sommato che si difendeva, cioè che sapeva che si difendeva nel senso che aveva dei dati interessanti. Invece, come vedete, i dati della Juve sono piuttosto deludenti. Si può fare di più, si deve fare di più, Allegri deve fare di più con il suo staff, non ci si deve nascondere secondo me dietro la retorica e le banali scuse ma bisognerebbe anche come tifosi amanti del contropiedismo pretendere un pochino di più, avere delle esigenze un po' più elevate perché non è possibile che la Juve sia dietro questo tipo di squadre in Europa per quanto riguarda le ripartenze, il contropiede e gli attacchi diretti. Grazie per la vostra attenzione, lo studio completo, ripeto, lo trovate in PDF nella chat tattica riservata agli abbonati sul mio server Discord, quindi abbonatevi a 99 centesimi se volete sfruttare questo vantaggio insieme agli altri tipo la programmazione giornaliera con orari e argomenti dei nuovi video in uscita. Intanto, fatemi sapere nei commenti come la pensate su queste squadre europee, sul contropiede, sul gioco della Juventus, like al video se vi è piaciuto, condividetelo con chi è interessato a questo studio, a questi dati che non riguardano solo la Juve perché ci sono anche altre squadre e squadre italiane e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!